Preghiera della sera Leggilo in silenzio Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame Signore Gesù, perdona i miei peccati, ti amo, ho bisogno di te per sempre. Copri con il tuo prezioso sangue la mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro, i miei sogni, i miei progetti e i miei amici. Dammi la salute, la pace, la fede e l'amore. Grazie Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ame Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno a Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodiscimi, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Ame L'eterno riposo donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ame Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ame Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi augura una serena notte e vi aspetta al prossimo video. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti